I nuclei di cura primaria rischiano di chiudere, sono sul piede di guerra i medici dei nuclei nonostante le rassicurazioni del manager Lasle Ferdinando Romano che ha garantito che non accadrà. I sindacati però sono di parere diverso e ribadiscono il rischio reale perché per loro non ci sarebbe la volontà di rimpiazzare i medici andati in pensione. Ovviamente la chiusura dei nuclei comporterebbe gravi problemi nella qualità dell'assistenza, oltre che a drastiche riduzioni di orari che potrebbero comportare la perdita di posti di lavoro benventi a rischio. La regione di recente ha negato il subentro condannando i nuclei alla morte per esaurimento del personale. Ci sarebbe un'indisponibilità economica ma incomprensibile per i medici e per i sindacati. Le altre Asle dicono i sindacati continuano a rimpiazzare i pensionati, gli unici penalizzati restano i cittadini aquilani. Mentre si pensa alle case di comunità e si stanno individuando le sedi, è logico non sostenere le associazioni mediche. Medici e sindacati però hanno annunciato iniziative e azioni di lotta per difendere la medicina territoriale. La situazione è che il manager ha espresso una disponibilità sempre, però noi siamo in trattativa da giugno. Da giugno a oggi non è cambiato nulla e l'amministrazione pubblica parla per altri iscritti. In più teniamo presente che c'è un piano strategico dell'Asle 23-25 in cui c'è scritto che l'Asle attende al contenimento della spesa soprattutto in materia di associazioni mediche e di reintegri dei nuclei dei medici cessati. Quindi davanti a queste cose noi siamo preoccupati. Io prendo atto della disponibilità del direttore generale, confido in questa, però alla luce di tutto quello che è successo e di otto mesi di trattative che non sono andati in porto, noi siamo scesi con un'azione di lotta che intendiamo portare avanti fino alla fine. I motivi per cui ci sono queste difficoltà sono motivi di carattere economico. Ora da un lato francamente non lo capiamo perché l'indennità di un medico che va in pensione si trasferisce a quello che entra, quindi diciamo che a costo praticamente è zero. Ma aggiungiamoci un'altra cosa. Se buttiamo a mare 15 anni di esperienza, buttiamo a mare anche 15 anni di investimenti economici che la Regione e l'Asle hanno fatto su di noi, conseguentemente andiamo non a avere un guadagno o un risparmio ma andiamo a avere un ulteriore spreco che si unisce poi alla disorganizzazione.